Musica Carissimi telespettatori di Teleantenna, benvenuti con il telegiornale regionale. Andiamo subito a Udine dove Mitra, Bombe e Kalashnikov è stato sgominato un traffico internazionale di armi con ben 27 indagati. Si è conclusa questa mattina una vasta operazione contro il traffico illegale di armi condotta dai carabinieri del ROS e dell'arma dei carabinieri territoriale. Nella regione Friuli Venezia Giulia, Veneto, Lombardia, Emilia Romagna e Marche sono stati eseguiti numerosi decreti di perquisizione domiciliare emessi dalla Procura della Repubblica di Udine nei confronti di 16 indagati per traffico di armi ed esplosivi. Nell'ambito delle indagini collegate, svolte in collaborazione con le competenti autorità giudiziarie e di polizia, sono state effettuate altre perquisizioni in Slovenia e Croazia nei confronti di altri 11 indagati per gli stessi reati. I provvedimenti nascono da un'attività investigativa avviata dal ROS nel novembre dello scorso anno a seguito di due rilevanti sequestri di armi e munizioni da guerra effettuati dai carabinieri della compagnia di Tolmezzo, comandata dal capitano Stefano Bortone e dal norme della stessa compagnia, comandata dal luogotenente Domenico Colonna nel piccolo comune pedemontano di Artegna. È qui che, nell'abitazione di un cittadino friulano, una sorta di collezionista, era stata trovata una vera e propria Santa Barbara. Le indagini, dirette dalla procura friulana, hanno permesso di individuare un canale di importazione illegale di materiale d'armamento ed esplosivi provenienti dai Balcani. Sono stati sequestrati, tra gli altri, kalasnikov, mitragliette, scorpion, revolver, bombe, munizioni e armi da guerra moderne di fabbricazione dell'Este. I controlli hanno consentito di rinvenire e sequestrare diverse armi da guerra in Italia e all'estero. Il blitz, che ha portato anche ad alcuni arresti, è stato condotto contemporaneamente dai carabinieri del ROS del Comando Provinciale di Udine, comandato dal colonnello Marco Zearo, impegnati su 17 obiettivi in Italia e dalle polizie di Slovenia e Croazia. L'operazione si inserisce nell'ambito di una maxi-indagine in materia di traffico internazionale di armi da guerra, oggetto di presunte compravendite illecite. L'inchiesta, coordinata dal PM Viviana del Tedesco, si era poi estesa da altri collezionisti residenti in provincia di Udine. Dai primi accertamenti sarebbe poi emerso che le armi, in un caso sarebbe stato sequestrato anche dall'esplosivo, venivano acquistate dai cittadini sloveni che a loro volta le ricevevano dalla Croazia. Nelle ultime 16 settimane, dopo l'avvio di una fattiva collaborazione tra le autorità giudiziarie e di polizia dei tre paesi, l'inchiesta ha avuto una netta accelerazione. L'indagine è una dimostrazione di come la cooperazione con le autorità straniere funzioni molto bene, ha detto il procuratore capo di Udine Antonio De Nicolò, ha confermato gli accertamenti in atto fin dal suo primo insediamento a Udine. De Nicolò ha ricordato l'importanza della cooperazione con gli organi inquirenti d'oltre confine. Il blitz ha portato già all'esecuzione anche degli arresti, due, stando alle informazioni arrivate da oltre confine, quelli eseguti in Slovenia, uno in Emilia Romagna, a carico di una persona trovata con un ingente quantitativo di armi, uno in Friuli Venezia Giulia. I furti continuano in tutta la regione, ma questa volta a Sacile sono le vittime a riuscire a mettere fuga ai malviventi. Ieri pomeriggio un'ottantenne di Polcenigo, pensionata con difficoltà uditivi, si è presentata ai carabinieri della stazione denunciando il tentativo di furto presso la sua abitazione che era accaduto verso le 18.30 ancora del 18 ottobre scorso. L'anziana si era trovata nel cortile della propria abitazione in via Favola a Polcenigo quando improvvisamente, tramite il cancelletto lasciato aperto, le si era avvicinato un uomo e due donne. La prima le aveva chiesto di andare in bagno, mentre l'altra, verosimilmente incinta, l'aveva presa per mano invitandola a pregare per distrarla e consentire così ai due complici di introdursi furtivamente nell'abitazione. L'arzilla e tenace ottantenne però non si è fatta intimidire né raggirare e anzi, agitandosi e gridando, ha messo in fuga i malfattori che si sono allontanati a bordo di un'auto non meglio descritta, condotta da un quarto complice. Descritto dalla stessa vittima, alto circa 1,70 m, pelle olivastra, capelli neri, corti, corportura robusta e tasso di 35 e 40 anni. È rimasto però in silenzio. La donna incinta, alta invece 1,60 m, canagione chiara, faccia tonda, l'altra donna alta 1,70 m che indossava un fular bianco e grigio e parlava correttamente l'italiano. Ieri verso le 11 i carabinieri poi della stazione di Sacile sono intervenuti in Viale San Giovanni del Tempio presso una villetta dove alle 10.30 una 83enne vedova, mentre era sola in cucina, si era trovata improvvisamente di fronte a una donna estranea che aveva approfittato della porta d'ingresso e del cancello del cortile che erano stati lasciati aperti. La giovane, descritta dall'apparente età di 25 anni, longilinea, è stata raggiunta da un complice che, trovatosi davanti all'8a genaria, si è introdotto nei locali dell'abitazione rovistando furtivamente. I malviventi sono stati però provincialmente disturbati nel sopraggiungere da un'ottantenne vicina di casa, facendoli desistere dal loro intento e ad allontanarsi così su un'autovettura nera di media dimensione, a voluto del quale, da tenderli, vi era un'altra coppia. Il quartetto di malfattori, che ha agito a Sacile con ogni probabilità, è lo stesso di Polcenigo. I carabinieri hanno raccomandato di diffidare sempre di persone che, con le scuse più disparate, tentano di capire la fiducia degli anziani con l'unico scopo di introdursi nelle loro abitazioni e, dunque, depredare i loro beni. Il Consiglio è sempre lo stesso, al minimo dubbio è consigliato all'ertare il 112. Intanto i carabinieri hanno avviato le indagini per cercare di scoprire i quattro malviventi. E a Udine è intervenuto Marzio Strassoldo, che afferma che il Friuli è una comunità unita su più fronti. Professor Marzio Strassoldo, qualcuno sostiene che la Regione Friuli-Venezia-Giulia, divisa o unita, chi dice divisa, chi dice invece che è unita, in due poli istituzionali, non è forse questi due poli possono porsi così in maniera antitetica rispetto al policentrismo, che poi è una caratteristica del nord-est? Il Friuli ha qualche differenziazione interna, ma sostanzialmente rappresenta una comunità unita nella sua lingua, nelle sue tradizioni storiche e anche nella sua economia, perché si basa ovunque sulla piccola e media impresa. Quindi le differenziazioni tra, che so io, Pordenone, Udine o Gorizia, riguardano questioni assolutamente marginali. Ciò che importa è che siamo una comunità, siamo un popolo che parla una propria lingua, facciamo parte di una minoranza linguistica, la più forte insieme a quella sarda e queste particolarità vanno difese e soprattutto sviluppate. Le due entità, Friuli e Trieste, sono radicalmente diverse, perché Trieste è una città marittima, dove si parla Veneto, un po' di sloveno, dove domina una cultura borghese, urbana e altro, mentre Friuli è una terra solida, manifatturiera, dove domina l'industria, l'artigianato, quel po' di agricoltura che adesso sopravvive nei sistemi economici moderni ed altro. Quindi sono due entità omogenee che vanno però dotate di un proprio apparato istruzionale, dentro una regione unita come il Trentino Alto Adige. E il presidente del Circolo Culturale Gino Bozza di Cordovado e della Biblioteca di Cordovado ci parla di un'iniziativa particolare relativa alla Grande Guerra. Il 24 ottobre a Suzzolins, nel centro sociale di Cordovado, ci sarà un'iniziativa del tutto particolare, relativamente alla iniziativa della Grande Guerra, che a Cordovado sono iniziate il 24 maggio, quando il piave mormorava. A Suzzolins il 24 ottobre parleremo invece del Fante che mormorava. Sarà una conferenza storica del professor Lucio Fabi, che è uno storico importante della regione Friuli-Venezia-Giulia, ma che ha iniziative svolte in tutto il territorio nazionale, e parlerà di una situazione, dicevo, particolare perché parlerà del Fante in sofferenza. Il Fante che durante la Grande Guerra si è trovato catapultato dentro delle trincee, da lui che era un contadino, il più delle volte perché il 90% dei soldati della Grande Guerra erano dei contadini, si è trovato in una situazione paradossale, perché pensava di fare un'iniziativa come quella del risorgimento, ma invece si è ritrovato con una guerra che durava da molto tempo e per anni. In una situazione come questa sono saltati tutti i principi, diciamo, sui quali lui era stato preparato per una guerra di movimento, e una guerra di poco tempo, e ha cominciato a entrare in crisi. E questo è stato uno degli elementi forti che hanno inciso poi per quello che poi è capitato proprio il 24 ottobre del 1917, quando con la rotta di Caporetto i Fanti sono stati costretti, diciamo, a ritornare dalle posizioni di partenza e quindi anzi a testarsi sul piave. È una sofferenza che ha come elemento cardine la vita di trincea, una vita fatta di fango, di assalti, di sangue e di morti che cadevano in ogni momento e che non davano la possibilità di conquistare se non pochi metri. La rotta di Caporetto è un evento che è rientrato nella storia proprio anche come rotta di Caporetto, proprio la sconfitta atroce, ed è stata addossata nel primo tempo proprio alle responsabilità dei Fanti che non hanno combattuto come dovevano. In effetti la verità storica è un po' diversa. Il 24 ottobre del 1917 è iniziata invece quello che è stato poi il risorgimento vero delle nostre truppe che a testate sul piave poi sono rientrate a conquistare il territorio che si erano prefissi all'inizio. Quindi parleremo soprattutto della sofferenza dei Fanti e di un elemento che non è, diciamo, ben stato scandaliato ancora fino in fondo perché l'eroismo è stato l'elemento cardine e la sofferenza del Fanti è stato un elemento un po' sottaciuto. Diciamo che quello che ha colpito di più sono i 600 mila morti italiani, dei soldati, ma ci sono milioni di soldati che sono stati feriti e che hanno portato le ferite nella loro carne per tanto tempo e di cui si parla molto poco, anche perché dei feriti ci si è dimenticati subito dopo. A Suzzolins vorremmo in qualche modo mettere il dito su una situazione che era di perversa normalità ed era la vita di Trincea, la vita dei soldati che in qualche modo avevano dato il massimo ma si erano ritrovati in una situazione non prevista e tanto meno per loro che erano abituati a scavare nella terra ma soprattutto per seminare e non per viverci in mezzo al fanco. Quindi l'appuntamento per tutti è il 24 ottobre alle ore 16.30 al centro sociale di Suzzolins a Cordovado, frazione di Cordovado tra Cordovado e Teglio e l'entrata è libera e quindi tutti potranno godere della possibilità di un approfondimento come quello che verrà proposto dal professor Fabi. E a Udine l'onorevole Renzo Pascolat dice noi friulani cerchiamo quella che è la nostra autonomia. Siamo con l'onorevole Renzo Pascolat, presidente dell'Associazione Friuli Europa. La vostra associazione si interessa particolarmente di problemi di carattere economico e sociale si interessa anche di collocazione geografica economica e la risposta è positiva. All'interno di quest'area come vedete il rapporto anche con il Veneto nella vecchia e non forse ancora superata esperienza dell'Alpe Adria? Sì, va detto subito che noi friulani in generale non è che ce l'abbiamo con il Veneto o con il Trentino Alto Adige eccetera. Noi cerchiamo la nostra autonomia perché la vogliamo rafforzare, perché oggi è in pericolo e perché questo pericolo può diventare veramente defragrante e quindi noi cerchiamo anche questo convegno lo dimostra, cerchiamo di stare uniti il più possibile per ottenere almeno il minimo del risultato. Per quanto riguarda la domanda specifica, noi riteniamo che sul piano generale il contributo che nel corso degli anni abbiamo già dato sui temi di carattere economico eccetera, possano queste esperienze, queste iniziative eccetera essere ancora da guida o comunque da elemento importante di sviluppo di quella che evidentemente noi tutti auspichiamo essere il discorso che prima lei faceva con molta chiarezza eccetera. Quindi siamo d'accordo che ci debba essere una posizione da parte anche dei friulani eccetera a favore di questa ipotesi che lei adombrava prima nella sua domanda. Vi ringrazio per averci seguiti, ricordo gli appuntamenti con il telegiornale regionale alle 19.25, alle 23 e alle 1.50 e vi auguro un buon proseguimento di serata su questa rete. Grazie a tutti.